Il motivo shock della morte di Fabrizio Frizzi, l'atroce dolore dopo l'ictus Fabrizio Frizzi è stato un combattente fino alla fine dei suoi giorni. Solo in queste ore, infatti, dopo la sconvolgente notizia della sua morte abbiamo scoperto che da tempo il conduttore stava combattendo contro una bruttissima malattia che se lo stava portando via giorno dopo giorno. Una malattia che Fabrizio ha scelto di tenere segreta perché sperava di poter guarire del tutto e poi raccontare un giorno in televisione a tutto quello che gli era successo. La causa terribile della morte di Fabrizio Frizzi. Lo scorso 23 ottobre Fabrizio Frizzi venne colto da un ictus mentre si trovava in studio a Roma per registrare le nuove puntate dell'eredità. Il game show preserale in onda su Raiuno che ormai conduceva da ben quattro anni. La corsa in ospedale fu immediata ma in quell'occasione Fabrizio Frizzi scoprì di avere una malattia ben più seria e grave. Quell'ictus, infatti, era stato il campanello d'allarme di un'altra grave malattia, stando a quanto riportato in queste ore sulle pagine del sito web d'Agostia. Fabrizio scoprì di avere un tumore al cervello e i medici gli avrebbero detto subito che non poteva essere operato. Una sentenza a dir poco shock per Fabrizio che ha sempre considerato la vita un qualcosa di meraviglioso e ha onorato questo suo modo di pensare fino alla fine dei suoi giorni. Fabrizio Frizzi ha combattuto fino alla fine contro la malattia. Sì, perché nonostante la malattia, le cure alle quali doveva sottoporsi giorno dopo giorno per cercare di sconfiggere questo brutto male. Fabrizio non ha mai perso quel sorriso che lo ha sempre contraddistinto e che è diventato il suo punto di forza per il pubblico che adesso sente tantissimo la sua mancanza. Fabrizio voleva vincere la sua sfida più difficile e voleva farlo in primis per la sua amata figlioletta Stella, una bambina di soli cinque anni che ha avuto dal suo secondo matrimonio con Carlotta Mantovan. Negli ultimi anni la vita di Fabrizio era cambiata profondamente, Stella lo aveva reso un uomo migliore e quando ne parlava in televisione i suoi occhi si illuminavano di una luce particolare. Un padre innamorato che ha combattuto fino alla fine per cercare di sconfiggere quel brutto male che purtroppo non gli ha dato scampo. Oggi a mezzogiorno si terranno i funerali di Fabrizio Frizzi presso la chiesa degli artisti a Roma. Già in queste ore sono tantissime le persone comuni che sono presenti in piazza del popolo per onorare ancora una volta un grande uomo oltre che un grande professionista del piccolo schermo. Grazie a tutti!